se la nuova rivelazione tra virgolette come avviene quando evoca gli insegnamenti segreti contraddice la rivelazione di dio sappiamo già con certezza che non può venire da lui è scritto se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato sia anatema galati 1 verso 8 l'unicità della rivelazione pubblica è un segno caratteristico e distintivo del cristianesimo a cui non si può rinunciare senza rinunciare al cristianesimo stesso d'altro canto il fatto stesso che si debbano invocare nuove rivelazioni mostra nel modo più evidente l'assenza totale di prove nel senso tecnico e proprio sia del contenuto che si dovrebbe attribuire agli insegnamenti segreti sia dell'esistenza stessa di tali insegnamenti la chiesa cristiana non ha nascosto agli uomini nessun insegnamento segreto di gesù cristo gli insegnamenti segreti che di tanto in tanto compaiono nei luoghi più diversi sono semplicemente delle contraffazioni prodotte per stuzzicare la curiosità della gente gesù stesso del resto aveva affermato non ho mai detto nulla di nascosto giovanni 18 verso 20 e proprio questa sua affermazione va intesa nel senso più letterale se il cristianesimo si riduce ai soli elementi simbolici come vogliono gli adepti degli insegnamenti segreti degenera il gnosticismo il cristianesimo autentico quello biblico propone invece ancora oggi il suo messaggio di salvezza senza segreti agli uomini e alle donne di tutto il mondo affinché ciascuno possa conoscere e incontrare personalmente nella propria vita quel dio che il mondo cerca come a tastoni nel buio poiché non vi è nulla di nascosto che non debba essere svelato e di segreto che non debba essere manifestato quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce e quello che ascoltate all'orecchio predicatelo sui tetti matteo 10 versi 26 e 27